Sì, di nuovo insieme con la nostra segna stampa, riprendiamo il discorso legato all'attentato di Berlino con la prima pagina del messaggero, il titolo che troviamo sul messaggero, la strage al mercatino di Natale, terrore a Berlino, un tir piomba sulle bancarelle, le vittime sono almeno 9, oltre 50 i feriti, un attentatore morto, l'altro arrestato, il camion era partito dall'Italia ma poi è stato rubato. Anche l'agguato nel museo in Turchia, la gente che uccide l'ambasciatore russo, vendetta per Aleppo, agguato in una mostra d'arte, Putin attacca e quindi l'ambasciatore russo in Turchia è stato ucciso a colpi di pistola da un attentatore, un poliziotto al grido di vendetta per Aleppo, l'ambasciatore stava pronunciando un discorso all'inaugurazione di una mostra fotografica sotto gli occhi terrorizzati del piccolo uditorio presente, Mevlut Mert Altintas, 22 anni, ha colpito alle spalle la sua vittima, il giovane è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Germania e Turchia, Alessandro Orsini scrive la doppia miccia dell'odio, un camion che si è lanciato contro un mercatino di Natale a Berlino, la violenza sembra nascere dalla fine terribile che sta divorando l'Isis, travolto dai colpi delle due coalizioni guidate dalla Russia e dagli Stati Uniti. La Germania non bombarda le postazioni dell'Isis in Siria ed in Iraq, ma ha inviato soldati, navi ed aerei in sostegno della Francia, fornisce un supporto importante. L'attentato sotto Natale era atteso e altri potrebbero arrivare. I governi occidentali hanno imparato a conoscere la logica di ragionamento dell'Isis che si riassume nella formula colpiamo coloro che ci colpiscono. Eppure gli attentati dell'Isis mostrano debolezza più che forza. Dalla strage di Bruxelles del 22 marzo 2016 ad oggi, l'Isis si è affidato all'azione dei lupi solitari, non è più riuscito a pianificare gli attentati dall'esterno come aveva fatto un tempo. Le sue capacità operative sono state drasticamente ridotte. Se guardiamo le sconfitte terribili che subisce sul campo di battaglia, i suoi attentati nelle capitali occidentali appaiono per quello che sono gli spasmi finali di un corpo morente. A centropagina invece troviamo le questioni legate al Comune di Roma. Raggi, rimpasto ad alta tensione, Movimento 5 Stelle in ordine sparso, Ira di Grillo. Per due voti Bergamo promosso a vice sindaco, la Montanari va all'ambiente. Quindi Luca Bergamo è il nuovo vice sindaco di Roma, Pinuccia Montanari e l'assessore all'ambiente. Ma il rimpasto ha diviso la maggioranza 5 Stelle nella votazione per il vice sindaco. Mazzillo, fedelissimo della Raggi ma colpito dal veto di Grillo, è stato sconfitto per soli due voti. L'ira di Grillo va in parallelo con quella della base che sta preparando un'assemblea pubblica. Intanto oggi Marra davanti ai PM, Virginia Raggi, un avviso valuterò sulle nomine, Tegola in arrivo su eventuali sviluppi delle inchieste in corso, il sindaco Virginia Raggi prende tempo. Se mi arriverà un avviso di garanzia valuterò, dice intanto, nomine con Tegola in arrivo. Il caso Monte dei Paschi, pronti 20 miliardi per i salvataggi, il governo in campo per MPS, in programma un fondo da 20 miliardi per mettere in sicurezza il sistema bancario. Ed in taglio basso troviamo invece un'altra notizia, parliamo dei carceri Colabrodo, niente turni e ronde, evasioni da Re Bibbia, indagati ex direttore e capo dei Secondini. Turni di sorveglianza non rispettati, detenuti a rischio evasione, lasciati quasi incustoditi, ronde abolite, le falle nella sicurezza del carcere romano di Re Bibbia che hanno consentito a tre reclusi di fuggire, hanno dando lenzuola e calandosi dal muro di cinta, costano ora 14 persone l'iscrizione sul registro degli indagati, tra questi anche l'ex direttore dell'istituto Mauro Mariani. La procura ha inviato un avviso di conclusione delle indagini a tutti quelli che sono sospettati di essere a vario titolo i responsabili della clamorosa evasione. E continuiamo la nostra rassegna stampa andando sul web per altre notizie di cronaca che possiamo trovare su ansa.it a Berlino. La strage porta anche l'Italia ad innalzare i controlli, misure di sicurezza antiterrorismo rafforzate in Italia in prossimità delle feste natalizie e nuovi specifici interventi che verranno attivati in seguito ai fatti di Berlino e Ankara. Gli investigatori italiani sono in contatto con le autorità tedesche per assumere informazioni più dettagliate su quanto accaduto. Il ministro dell'interno Marco Minniti e il capo della polizia Franco Gabrielli in contatto con i vertici dei servizi stanno esaminando la situazione man mano che arrivano gli aggiornamenti. Già domani potrebbe riunirsi in Viminale il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo per valutare lo stato della minaccia. L'intelligenza è da tempo in stato di massima allerta. L'offensiva della coalizione anti-ISIS in Siria ed in Iraq ha fatto accrescere i rischi di azioni terroristiche in Occidente, anche ad opera dei cosiddetti returnei, ovvero combattenti in fuga dai teatri di guerra. Sul web e sugli organi di propaganda islamisti ci sono martellanti inviti a colpire. Adesso invece altre notizie di cronaca. A Palermo rimproverata a scuola minaccia il suicidio. Rimproverato dall'insegnante e poi dalla madre avvertita proprio dalla docente per aver versato acqua su un computer mentre era a scuola. Un ragazzino di 11 anni è salito sul tetto dell'istituto minacciando di buttarsi ma è stato bloccato dai poliziotti. È accaduto all'istituto comprensivo Livio Tempesta nel quartiere di San Cristoforo a Palermo. Gli oggetti del commissariato sono riusciti a fermare l'alunno dopo aver raggiunto il tetto con non poche difficoltà, anche in considerazione delle condizioni meteorologiche. I vigili del fuoco poi hanno fatto scendere il ragazzino in sicurezza con un braccio meccanico con cesto. Un parente l'ha poi convinto a riaffidarsi alla madre. Torna anche la paura per la meningite, 35 anni in rianimazione a fermo. Un uomo di 35 anni di Monte Rubbiano è ricoverato in rianimazione nell'ospedale Murri di Fermo per una meningite da pneumococco. La notizia anticipata oggi dal resto del Carlino è stata confermata dal dottor Giuseppe Ciarrocchi della Direzione di Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica dell'Asus di Fermo. Il paziente giunto al pronto soccorso due giorni fa con la febbre alta viene sottoposto a terapia antibiotica, ha spiegato il medico. Il paziente è sedato, costantemente monitorato e sottoposto a terapia antibiotica. La meningite da pneumococco non è contagiosa e dunque non è necessario sottoporre a profilassi i familiari e le persone che sono venute in contatto con il ricoverato. Secondo Padovani, nelle Marche, l'incidenza dei casi di meningite sulla popolazione residente non presenta attualmente escostamente rispetto alla norma. Andiamo invece a parlare di un'altra questione. Assolti nove ex manager Pirelli per la questione legata all'amianto. Sono stati tutti assolti con formula piena i nove ex manager di Pirelli accusati a Milano di omicidio colposo e lesioni gravissime per i 28 casi di operai morti o ammalati a causa dell'amianto. Dopo aver lavorato negli stabilimenti milanesi dell'azienda tra gli anni 70 e 80, lo ha deciso il giudice della quinta sezione penale del tribunale Anna Maria Gatto. I familiari delle vittime hanno protestato urlando vergogna aggiungendo che gli operai sono stati uccisi due volte dai padroni e dai giudici. Adesso ritorniamo sui giornali, apriamo la prima pagina del Tempo che titola oggi in merito alle ferie dei politici, in ferie tre settimane. I onorevoli vogliono il super ponte di Natale da domani al 9 gennaio, forse il 10. Oggi la decisione finale dei capi gruppo. E poi il focus sul comune di Roma, tutti i flop della sindaca in so di sei mesi al posto di Froncia, nominato Bergamo, i 28 bruciati dalla Raggi e il nuovo vice è un ex PD. Poi le questioni nazionali, camion partito dall'Italia, tir sul mercato, attentato a Berlino, 9 morti e 50 feriti, il poliziotto killer ad Ankar, al-Hakbar, ambasciatore russo ucciso in Turchia. E poi dei libera lampo vendono pure l'ospedale Forlanini, cessione a trattativa privata, il prezzo stabilito dal demanio. Forlanini in vendita 70 milioni di euro, un prezzo stabilito dall'agenzia del demanio, autorizzata a vendere a trattativa privata tra una rosa ristretta di investitori qualificati. Infine l'italiana scappata in Siria, la foreign fighter Fatima, condannata a 9 anni, il delitto di Garlasco in taglio basso, il DNA di un altro uomo nelle unghie di Chiara. Ci fermiamo adesso, piccolo break per noi, torniamo con tutte le notizie da Roma e dintorni a fra poco.